La piazza è dominata dalla solenne statua del Guercino a grandezza naturale. Fu commissionata nel 1857 dal comune di Cento al giovane e promettente scultore Stefano Galletti. L'impostazione della statua è tipica dell'arte dell'Ottocento. Il pittore, il cui sguardo autorevole si perde in lontananza, stringe tra le dita gli strumenti del mestiere, il pastello e la tavoletta. Ai suoi piedi stanno diversi rotoli di disegni che alludono alla sua prolifica attività come disegnatore. Premiata l'esposizione di Firenze del 1861 e solennemente inaugurata l'anno successivo, la statua venne rimossa dalla piazza nel 1934 per essere trasferita nel piazzale della Rocca. Dal 2005 la statua del Guercino ha recuperato la sua posizione originaria e può di nuovo vigilare sulla brulicante vita della piazza.